ciao a tutti ragazzi andiamo a parlare di sterling o tv il one to watch è uscito ieri andiamo a vedere se effettivamente ha senso sbloccarlo o meno da un lato devo dire che potrebbe essere interessante dall'altro un po' meno ma adesso analizziamo bene le cose mi raccomando fallo con youtube e andiamo in game eccolo qua sterling 1.70 giocatore comunque gracilino mettiamola così non è un giocatore comunque corpulento ha il 4 di amilità e solamente il 3 di debole questa cosa mi fa veramente triggerare mettiamola così rimaniamo in gergo altro attacco molto interessante interessante è anche la possibilità di sterling di ricoprire anche il ruolo di esterno destro di attaccante destro quindi si può andare a giocare un po' sui cambi ruolo per ibridarlo e insomma togliersi qualche soddisfazione questa cosa è da tenere conto anche perché di ad in questo momento non ce ne sono tantissimi performanti in gioco quindi sterling potrebbe essere un'ottima alternativa passiamo agli attributi velocità 90 con accelerazione 94 molto interessante lui ha lo stile di corso explosive quindi assolutamente molto molto buono da sfruttare lo scatto invece solamente 86 però vabbè se andiamo poi a utilizzare uno stile intesa per portare al cap il tutto abbiamo una bella scheggia tiro 80 occhio che non è proprio un finalizzatore soprattutto a causa del 3 di debole però dai diciamo che comunque se andiamo a potenziarlo con un qualche stile intesa che aumenta appunto la finalizzazione quindi il tiro potrebbe sbagliare un po' meno sotto porta ripeto occhio al 3 di debole passaggi 83 di passaggio sul corto non è assolutamente male occhio a lungo perché ha solamente 67 cioè fuori dal normale sbaglia un passaggio su due quindi evitiamolo questa cosa la visera è solamente 80 non è un regista il giocatore deve correre nel caso andare in porta non di più dribbling ovvio è il suo punto di forza iper agile 94 di agilità controllo pallano 84 di più 96 insomma è un ottimo giocatore che deve giocare in fascia per poi accentrarsi difesa non la calcoliamo occhio al fisico perché è molto molto basso quindi solamente 65 di forza ve lo spostano quindi veramente occhio come lo usate non è un giocatore da far giocare in centro ma è proprio giocatore da fascia quanto ci costa l'SBC di sterling non è a buon mercato soprattutto per il momento del gioco in cui siamo adesso il mercato appunto è molto basso e ci costa circa 160k alza un po la media questo 86 qua che ci chiede chi ci chiede il gioco quindi occhio perché 160k per un giocatore non scambiabile in questo momento potrebbero essere dei bei soldoni al contempo bisogna fare il ragionamento del potenziamento che può avere sterling come sapete è un giocatore otv quindi want to watch andiamo un attimo di qua su footbink così lo vediamo meglio lui si può potenziare prendendo gli if se vincono se la sua squadra vince tre partite su otto del campionato quindi non penso che il celsi possa avere troppi problemi per garantire questo più uno a sterling e soprattutto la sua nazionale se vince una partita durante al mondiale può regalargli il più uno e diciamo che l'inghilterra una partita me la può vincere durante le mondiali quindi sicuramente il più uno se lo becca dai secondo me un più due più tre se li becca tutti quindi aumenterebbe di tanto di tanto perché 86 89 diciamo che sicuramente un buon giocatore quello che mi lascia perplesso è solamente quel tradi debole lì un po mi lascia un po così è anche vero che poi se non lo usate più se non è più in meta che in questo momento il meta è un po così si può sempre utilizzare come super sub occhio che ovvio che 150k per un giocatore di esserti diventare super sub presto può bisogna ragionarci però sicuramente è un buon giocatore e qualche app se lo becca quindi se avete una premier io vi direi che potete comunque sbloccarlo avete la garanzia che comunque qualche app se lo porta a casa al contempo se non avete una premier non riuscite a bridarlo i giocatori col tradi debole vi fanno impazzire eccetera evitate sterling è un giocatore che deve giocare in fascia altri altri ruoli meglio evitare è iper agile per l'amor di dio ma è anche iper gracile quindi viene spostato molto molto facilmente e le difese che in questo momento vanno a basarsi su rudiger su culibali su van dyck su kunde insomma sono difese abbastanza piazzate lui vola via quindi occhio occhio anche allo stile di corsa su ps5 e xbox in nuova generazione è explosive quindi cosa vuol dire sul breve molto rapido e poi rallenta in maniera in vera e conta occhio che si può far recuperare molto facilmente quindi mettiamoci un po di punti lì su lei io sinceramente non lo consiglierei quei soldi quali terrei per altri per altri giocatori teneteli lì non vi farà mai la differenza come giocatore anche se prende gli app quindi no evitate sicuramente poi usciranno dei giocatori più interessanti l'unica cosa ripeto potrebbe essere che a un certo punto avete già idea di usarlo come super sub e poi più avanti nel gioco via in qualche sbc più succulenta torniamo in game ragazzi in che ho sbagliato perfetto fatemi sapere nei commenti se l'avete già sbloccato o meno ripeto io eviterei non è un giocatore ripeto che fa la differenza poi a questo costo un po' troppo elevato tenetevi non scambiabili per qualche giocatore che davvero può fare la differenza e basta tutto qua come sempre fatemi sapere in commenti se avete sbloccato ci vediamo al prossimo video e mi raccomando importantissimo follow a catatum ciao a tutti